Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24 in forma. Oggi incontriamo Gaetano Cuglietta, presidente dell'Associazione Culturale Cletart. Benvenuto Presidente. Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità e la possibilità che ci date di essere vostri. È un piacere, perché la vostra associazione è molto attiva. Qual è la vision della vostra associazione culturale? Allora, noi come associazione siamo nati nel 2008 e ci siamo prefissati, proprio come scopi sociali nostri di attività, quello della valorizzazione del nostro territorio, territorio che non è solo quello di Cleto, ma anche tutto quello che sta intorno a Cleto. Portiamo a Cleto dove si trova? Cleto sì, è sulla costa tirrenica, nella zona del Cosentino, tra Amantea e Falerla. È un po' all'elettroterra, 10 km nella collina. È un paese arroccato su una roccia di arenaria, caratterizzato da un bellissimo castello che sta sulla sua sommità. Il paese poi scende in questa pendice rocciosa di arenaria fino ad arrivare alla valle che è sottostante quella del Toglio. Sicuramente è un borgo molto particolare, ma ritorniamo proprio all'associazione e gli intendi dell'associazione. Perfetto, allora ci siamo prefissati degli scopi di valorizzazione, sia iniziando dalla storia, dall'archeologia, dalle culture che noi abbiamo nel nostro territorio, anche alla valorizzazione di alcuni prodotti. Però il connubio è sempre stato tra la storia e il legame con il territorio. Diciamo che l'ultima novità che abbiamo portato a termine è quella di una legge deroga sul divieto che allora la comunità europea aveva posto a non utilizzare locali che non avessero delle caratteristiche precise che la comunità ci aveva detto di avere. Invece noi abbiamo nella nostra storicità prodotti che sono stagionati in ambienti geologicamente naturali. Facciamo un passo indietro. Sono stati ritrovati i famosissimi silos. Esatto. E nei silos, lo ricordiamo, veniva appunto conservato il grano. Il grano, il grano. Però stesso procedimento vale per un altro prodotto che in realtà stava scomparendo, ma appunto l'associazione lo vuole portare ovviamente di nuovo in superficie, lo vuole valorizzare, che è il formaggio di pleto. Esatto. Allora, con la storia che ci ha dato una mano incredibile anche su questa situazione qui, perché abbiamo avuto dei studi storici dell'ultimo discendente dei baroni di Petramala, dove Haile ha fatto un libro, dove c'erano dei atti notarili, parto da questo perché poi mi aggancio anche a fatto dei silos, perché in questo atto notarile 1871, dove il quarto barone, discendente della baronia Giannuzzi Savelli, prima della sua morta fu stilato un atto notarile con tutti i suoi possedimenti e beni, tra cui all'interno del castello vi era un locale adibito alla stagionatura del formaggio con 600 forme di cacio in salagione. Molto interessante questa cosa. Già da questo principio qua. Ho notato anche nell'elenco delle proprietà… Infatti è proprio degli studi ad hoc per, diciamo, il curvo fra storia, tradizione e ovviamente valorizzazione della storia del luogo. E quindi praticamente che cosa succede? Succede che successivamente nel 2008-2010 c'è stato uno studio dal corgo Francesco Cuteri, che ha evidenziato che dentro l'abitato di Cleto c'era un borgo più antico. Cleto praticamente è un borgo rupestre, fatto di ingrottamenti di silos, che è una tipicità di pochi comuni della nostra regione. E Cleto ha in particolare… E voi volete puntare proprio su questo? Questi silos, che sono scavati nell'arenaria per la conservazione del grano, come era nella loro specifica funzione, venivano chiusi, sigillati dalla bocca di apertura che si apre a Damigiana verso il basso, sigillati con una pietra e con della calce. La fermentazione del grano che all'interno si fa a creare, consuma l'ossigeno. E consumando l'ossigeno non lo consente a nessun organismo vivente la sopravvivenza. Pertanto il grano si conserva un anno, due anni, in maniera eccellente. Ecco, ritorniamo un po', facciamo un passaggio sulla richiesta, sull'istenza che avete presentato alla Regione di Calabria, che è stata accolta dal Consigliere regionale Franco Sergio e comunque pare che ci sia. Si vede la luce intorno, alla fine del tunnel. Ci è venuta l'idea, perché io essendo a lungo tempo iscritto, sono socio anche di Slow Food, in estremazione, ho degustato dei formaggi di fossa, dove in Sogliano sul Rubicone erano praticamente le stesse fosse di arenaria nostre. Hanno fatto, nascosto lì, avevano nascosto dalle ruberie, avevano seppellito i formaggi in queste fosse, li avevano chiusi in modo che sopra c'era il pavimento dell'abitazione e qualsiasi incursione, cosa aveva, non individuava queste fosse, il formaggio se lo portava via. Hanno scoperto che dopo, nella spostatura, questo formaggio invece di rovinarsi, di peggiorare, era migliorato. Era migliorato per cui chiaramente... Era possibile questo, abbiamo... Ed è possibile questo? Esatto, per avere questa certezza abbiamo coinvolto nel nostro studio di valutazione Renato Brancaleone, che è un esperto affinatore di formaggi, anche lui ha una fossa dell'abbondanza, dove fa questo formaggio di fossa ed è docente all'Alma. E il risponso qual è? È stato... Si può fare. Positivo? Ok. Si può fare, però poi l'abbiamo fatta, con ottima, hanno partecipato 9 produttori regionali che hanno coperto tutte le 5 province e il risultato buono che ci ha dato ci ha spronato a chiedere la legge d'eroga. Presidente, io le devo fare i complimenti, perché per quanto vale ovviamente la mia opinione, però ci sono moltissime associazioni culturali che in realtà dicono di promuovere il territorio ma non lo fanno. Invece il vostro è un esempio molto molto positivo, perché cercate proprio di, a livello proprio concreto, di far conoscere quelli che sono i prodotti della storia, anche culinaria, della nostra Calabria, del nostro territorio, con i fatti. E questo sicuramente dovrebbe essere da esempio anche per le altre associazioni che molto spesso fanno solo convegni ma pochi fatti, perché il nostro turismo deve essere supportato ovviamente dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, alla nostra gastronomia, per cui credo che il vostro sia un buon esempio di... La ringrazio dei complimenti. Solo diciamo che in sostanza la nostra preoccupazione adesso è quella di, una volta approvata questa legge, di aprire ai piccole e medie imprese, anche ai piccoli allevatori, un'ulteriore speranza di migliorare un prodotto. Noi praticamente in Calabria abbiamo dei prodotti che sono considerati poveri, quali formaggio che non produce ricchezza, perché la pastorizia è considerata un mestiere povero. Ma perché ci sono degli intoppi che conosciamo benissimo... Il mercato impone determinati prezzi al ribasso e non rialzo, però se io faccio un prodotto di qualità, devo essere riconosciuto per questa qualità... Deve essere tutelato, deve essere riconosciuto, deve avere un prezzo dignitoso che consente ovviamente al produttore di poter continuare e di produrre e di esportare e quindi... Un prodotto di nicchia fatto con questa storicità del territorio e questo è un'attrattiva per il borgo che gli consente anche un po' di sopravvivenza, perché è l'abbandono in cui siamo portati... Ma il famoso turismo è no gastronomico, Presidente? Esatto, questo è il problema. Di che cosa voglio dire? Si nutre di queste cose. Si nutre a proposito di prodotti di eccellenza. Non a caso noi abbiamo messo come a te, abbiamo detto territorio alma mater, cioè territorio madre che ci nutre, nel senso che è la madre che ci nutre di tutto, ci nutre di prodotti agricoli, ci nutre anche di cultura e quindi di solle città. Presidente, mi dicono dalla Regia che dobbiamo terminare la nostra intervista. Io volevo ringraziare l'Onorevole Franco Sergio che giustamente ha preso su, ha fatto su a questa nostra richiesta di aiuto da parte della Regione a far passare questa legge e lo ringrazio perché è stata una persona di una cortesia, di un'eccellenza non indifferente, quindi a lui va tutto in merito di questa approvazione, di questa legge. Presidente, in bocca al lupo, continuate così. Continueremo. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi e a presto. Alla prossima iniziativa. Alla prossima iniziativa, grazie e noi ci vediamo più tardi.